A una segnalazione di un reato di vandalismo di una rete. Codice 2, ripeto, codice 2. Il sospetto è fuggito in zona sotto giurisdizione corporativa. Richiedo permesso urgente di accedere. Capito, capito, capito. Capito, capito. Capito, capito. Capito, capito. Dio e non vengono. Arrestare Salve, il mio nome è Harry Fickball e state guardando WNS News. La ventisettesima conferenza annuale dell'associazione produttore di impianti è... Sospetto di corpocidio arrestato, trattenere o eliminare, passo. Sospetto di corpocidio arrestato, attraverso il corpocidio arrestato, attraverso il corpocidio arrestato. Sospetto di corpocidio arrestato, attraverso il corpocidio arrestato. Siamo chiamati un po' di rinforzamento, abbiamo un polo e un blanco tagliato e un blanco capo. No, no, no. Rilevato accesso non autorizzato a strutturete privata, trasferisco l'incarico alla Netwatch.